Allora, intanto ringrazio gli organizzatori, ringrazio ISPRA, il sistema nazionale e l'organizzazione di Remtec che ci dà l'opportunità di presentare i lavori del sistema e in generale un po' il sistema. Ora vorrei aggiungere una nota di colore, se Rossana era preoccupata di un ritorno al passato rispetto a un salto al futuro di Giuseppe, io francamente dovendovi parlare di economia circolare, peraltro mi è stato assegnato questo tema ma sono un operativo da campo e quindi entrare nel meccanismo della filosofia mi piace, però devo dire la verità che sono rimasto un po' turbato, tuttavia ho cercato di individuare gli elementi di concretezza e di attualità che possono essere utili al sistema e che soprattutto possono avere un riverbero sulle imprese, perché oggi stiamo parlando in un contesto di riverberazione sulle imprese. Dunque, presumo che sia questo, mi permetterete di fare un piccolo escursus, spero più veloce possibile perché i tempi ormai sono stretti, su che cos'è l'economia circolare. Il concetto di economia circolare deriva da più approcci allo sviluppo sostenibile e finalizzata la ricerca di economie alternative, non è riconducibile a una singola idea di un singolo soggetto, ma è riconducibile a più soggetti, tra i quali ricordiamo la fondazione MacArthur e altri soggetti di natura pubblica come i francesi. Ci sono due definizioni molto, secondo me, interessanti che possono rappresentare. Il principio base è che l'economia, il sistema economico, non è a sé stante ma è all'interno di un sistema più ampio che è il sistema ecologico e quindi ne deve rispettare assolutamente per lo sviluppo, deve rispettarne le leggi e le prerogative. Come vi dicevo, il principio della definizione di economia è variegato, ognuno ha dato la sua interpretazione, a me piace molto quella del French Environment and Energy Management Agency che, ve la cito, un sistema economico di produzione e di scambio che a lungo tutti gli stadi del ciclo di vita dei prodotti mira ad aumentare l'efficacia dell'utilizzazione delle risorse e a diminuire l'impatto ambientale sviluppando allo stesso tempo il benessere delle persone. Molto chiaro, direi anche quasi logico. Cosa significa? Si traduce sostanzialmente in un modello di produzione di natura circolare alternativo al modello lineare che conosciamo tutti. naturalmente questo passaggio lo si può vedere attraverso step temporali, quindi dall'economia lineare che prevedeva lo sfruttamento della materia prima, la produzione, l'utilizzo e poi il rifiuto, a una fase intermedia del riciclo che abbiamo già vissuto e stiamo ancora vivendo in questo contesto storico, che è materia prima, produzione, uso e nell'ambito dell'uso il riciclo alla produzione e quindi comunque il rifiuto. L'economia circolare molto più semplicemente ha l'obiettivo di rifiuto zero. Naturalmente questo non è possibile, lo sappiamo tutti, ma l'imprinting che viene dato dal sistema politico internazionale è proprio quello. Tanto è vero che nell'approvazione del 2015 dai 193 membri dell'ONU, questa è una slide che ha già fatto vedere il collega Franco, tra i 19 goals che l'ONU prevede per lo sviluppo sostenibile ne individua uno che è proprio relativo al consumo e alla produzione responsabile. Quindi oggi ci troviamo di fronte a questa indicazione di natura politica che dobbiamo tradurre in termini di concretezza. Oggi come oggi gli sforzi principali per cercare di venire a una soluzione quasi definitiva dell'economia circolare sono stati fatti in materia di gestione dei rifiuti, ma non basta e non è sufficiente. Nell'ambito di questo contesto vediamo qualche dato, tanto per darvi un'idea, nella Unione Europea ogni anno si producono 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. In media le materie riciclate permettono di rispondere solo al 10% della domanda UE di materie prime. Questi numeri rappresentano un evidente sbilancio. La UE tra l'altro esporta in quantità di rifiuti riciclabili come materie plastiche, carta carbone, ferro, acciaio e metalli, anche pregiati. Quindi li diamo fuori. Inoltre importiamo il 50% delle materie prime che consumiamo. Questi quattro numeri rappresentano molto bene lo sbilancio che oggi governa il nostro sistema produttivo dei rifiuti. Naturalmente, come dicevo prima, la gestione dei rifiuti è una componente su cui oggi ci siamo concentrati, si è concentrato l'Unione Europea e si è concentrato anche il sistema italiano. Ma per raggiungere gli obiettivi prefissati sarebbe necessario partire dal sistema progettuale, quindi definire il design per l'economia circolare. Che cosa significa? Significa incominciare a pensare alla produzione di un oggetto che sostanzialmente non generi alcun tipo di rifiuto. E vuol dire iniziare dalla scelta del materiale con cui questo prodotto viene realizzato. Questo significa individuare un percorso progettuale che deve sottolineare efficienza nell'uso delle risorse, riduzione degli impatti negativi, la durabilità che spesso, parliamoci chiaro, nell'attuale momento storico non sposa in maniera diretta gli interessi economici delle aziende produttrici, ma poi lo vedremo meglio, la riparabilità, altrettanto, l'aggiornabilità, facilità di manutenzione, progettazione per lo smontaggio, informazione, facilità di riutilizzo e riciclabilità. Quindi produrre qualche cosa nell'ambito di un meccanismo di economia circolare vuol dire produrre qualche cosa che abbia una resa nel tempo e bassa produzione di rifiuti. Cosa consentirebbe questa utopica, fatemi dire, in questo momento storico, questo utopico obiettivo? Consentirebbe di sfruttare molteplici opportunità, minor dipendenza dalle importazioni, minore pressione sull'ambiente, migliore distribuzione delle risorse, riduzione delle disuguaglianze, più innovazione e competitività. Dove il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, le agenzie ISPRA, possono entrare? Indubbiamente possono entrare nell'ambito della valutazione di queste opportunità e quindi di capire quali sono le opportunità su cui il sistema può agire e ribaltarle, riverberarle sulle fasi di una progettazione. In questo periodo l'Unione Europea, come vi dicevo, ha prodotto diverse comunicazioni della Commissione al Parlamento, proprio finalizzate a questo tipo di progettazione. ma ci si è concentrati attraverso il piano di azione prevalentemente su due dei cinque punti che vedete espressi, in particolare sulla gestione dei rifiuti e sulle materie prime e secondarie, che sono proprio elementi di interesse primario del sistema nazionale. Non dimentichiamoci che noi, ai sensi della 132, tenuto conto delle professionalità che abbiamo nell'ambito del nostro sistema, potremmo, possiamo, dobbiamo agire su questi campi e quindi in base anche all'articolo 13 della 132 che definisce l'obbligatorietà di un parere del sistema di agenziale sulla emissione di decreti, da qui ai prossimi due anni noi riteniamo che ci siano gli spazi perché il sistema possa intervenire in maniera assolutamente diretta. Tornando al piano di azione, quindi della UE per l'economia circolare, principalmente vincolato alla gestione dei rifiuti, sono, vedete, rappresentati i cinque comparti principali su cui si è lavorato. Quindi rifiuti alimentari, materie prime essenziali, rifiuti di costruzione e demolizione che ci interessano molto, biomassa, prodotti da biomassa, altrettanto e plastica. Quindi con l'approvazione delle direttive europee che sono entrate in vigore nel luglio di quest'anno e danno agli stati membri due anni per il recepimento e l'emanazione di normative specifiche, nello specifico vediamo che si è intervenuti sulla strategia per la gestione dei rifiuti della plastica, io se mi permettete scorro velocemente perché voglio arrivare poi alle conclusioni velocemente, è comunque la strategia della plastica che prevede alcuni elementi molto interessanti come la promozione della domanda di plastica da riciclo, il miglioramento dei sistemi di separazione, la gestione degli imballaggi di plastica che vedremo poi anche a dei vincoli stretti, il divieto dell'inserimento deliberato di microplastica nel prodotto di consumo, l'incentivazione dell'uso dell'acqua del rubinetto rispetto a quella delle bottiglie di plastica. Quindi abbiamo un esempio, raccolta di rifiuti nei porti, problema molto importante che tra l'altro noi a Genova sentiamo moltissimo, regolamentazione delle plastiche, uno dei problemi che sentiamo moltissimo a Genova, regolamentazione delle plastiche biodegradabili e altri elementi. Il 4 luglio come vi dicevo entra in vigore il pacchetto sull'economia circolare, gli stati membri hanno due anni, quindi entro il 5 luglio 2020 devono recepire e divertire le direttive che vanno a modificare delle direttive anteriori che di fatto sono già rese applicative con il recepimento in Italia, per esempio la direttiva madre sui rifiuti, la disciplina sulle discariche, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e sui veicoli fuori uso. Quindi proseguendo in questo panorama introduciamo gli obiettivi di riciclaggio previsti da queste direttive, quindi sui rifiuti urbani su cui ci si è concentrato in maniera particolare, entro il 2025 il 55%, non deve essere superata la quota del 55%, quindi il 2030 e così via fino al 2035 nel 65%. Il ulteriore elemento del pacchetto che è stato approvato è la raccolta differenziata, nel 22, entro il 22 si dovranno raccogliere separatamente i rifiuti domestici pericolosi e entro il 23 gli organici, entro il 25 i testi. Come vedete c'è molta carne al fuoco per quel che riguarda la gestione dei rifiuti. Entro il 2035, molto importante, i rifiuti urbani in discarica dovranno costituire al massimo il 10% dei rifiuti urbani prodotti. Devo dire che sono obiettivi molto sfidanti, molto sfidanti in un territorio particolare come quello italiano che vede diversi approcci alla tematica dei rifiuti a seconda della tipologia. Io porto l'esperienza dell'ARPA Liguria, l'ARPA Liguria e la Liguria in generale è un territorio su cui non ci sono sistemi di gestione del rifiuto che prevedono la termovalorizzazione, quindi noi per anni abbiamo convissuto con discariche che hanno creato numerosi problemi e che oggi proprio in virtù della vetustà degli impianti e della politica, se mi permettete, è anche poco accorta negli ultimi 30 anni di chi ci ha governato a livello regionale, oggi hanno creato uno sbilancio in materia di gestione dei rifiuti che ci costringe a spedire i rifiuti fuori regione, non siamo più in grado di gestirli. Io credo che questo per la regione Liguria sarà molto difficile da raggiungere come obiettivo, se non a fronte di una politica sui rifiuti di natura nazionale superando i vincoli di localizzazione di produzione e gestione nell'ambito della provincia. Mi avvio alla conclusione per cercare di capire quali effetti queste direttive potranno avere sul sistema economico e sul sistema delle imprese. Evidentemente le imprese saranno chiamate a fabbricare prodotti durevoli, come dicevo prima non è detto che concili con l'obiettivo dell'impresa stessa e del profitto, naturalmente sarà necessario impostare un sistema di educazione e di formazione e di accompagnamento a questo tipo di valutazione. Ovviamente anche noi consumatori avremo e dobbiamo avere una coscienza diversa rispetto all'acquisto e all'utilizzo del prodotto, i consumatori devono orientare sulle scelte sostenibili. Tutto questo deve essere fatto sotto la regia della politica per garantire un approccio economico. C'è da dire una piccola finestra sulla situazione delle imprese. Le imprese in Italia hanno già cominciato a muoversi, come vedete ci sono alcuni link sui quali è possibile vedere come si stanno muovendo alcune imprese relativamente a questa problematica. siamo diciamo a livello generale decisamente avanti, tanto per darvi un dato, come imprese italiane nel 2014 la produzione di rifiuti rispetto al valore prodotto è circa 42 tonnellate su un milione di euro prodotto. La Germania si è attestata intorno ai 63 tonnellate rispetto a milioni di euro prodotto. Quindi siamo più efficienti della Germania come sistema impresa e questo è un dato da cui partire molto importante. Quali effetti? Altri effetti? La pubblica amministrazione e le imprese. Ovviamente come dicevo prima sotto la regia della politica è necessaria una revisione della normativa al fine di creare un contesto di supporto e stimolo alle imprese. Ricerca e innovazione, educazione, informazione e comunicazione, razionalizzazione dei consumi e acquisti verdi. Acquisti verdi che come tutti sapete sono già in una legge dello Stato, la 221, che per le pubbliche amministrazioni ha introdotto il green public procurement al quale ci si deve attenere attraverso un meccanismo che individua i criteri ambientali minimi, che elenco brevemente, cioè non tutti i servizi e gli acquisti della pubblica amministrazione sono soggetti al GPP, questo è l'elenco dei servizi che l'amministrazione acquista e per i quali è necessario il GPP. Quindi salto la partita, i colleghi in precedenza hanno già ampiamente illustrato chi siamo e che cosa è il sistema SNPA, andiamo a vedere che cosa può fare il sistema rispetto a questa problematica. Il sistema stesso, le agenzie, ISPRA, essendo pubblica amministrazione, per se stesse devono adottare delle politiche, come dicevamo, di razionalizzazione dei consumi, di acquisti verdi, di anche individuazione di nuovi percorsi e nuove professionalità relativamente ai cicli, alla valutazione dei cicli di vita, quindi il life cycle assessment e il life cycle costing che sono dei modelli in base ai quali si valutano i costi del singolo prodotto, costi in termini ambientali e in termini procedurali, quindi c'è la prospettiva di creare nuove anche professionalità che possano occuparsi di queste attività. Quindi inventari territoriali per emissione di gas a terra, che ovviamente ci consentirebbero di localizzare elementi derivanti dalla produzione che hanno impatti ambientali molto più pesanti e altri strumenti che sono già in atto per i quali la stessa ISPRA oggi è competente, quindi Ecolabel e Ecoaudit. Che cosa può fare invece l'SNPA rispetto alle imprese? Può stimolare sicuramente educazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione, può fare ricerca e soprattutto, questo lo sottolineo, e credo che questo sia il focus su cui volevo che volevo farvi in qualche modo sottolineare. Sulla partita legata all'end of waste e sottoprodotti, noi oggi, tutte le agenzie, si trovano di fronte a una grandissima problematica, anche perché diciamocela tutta, la normativa non ha facilitate, non ha chiarito, mi soffermo ad esempio solo sulla gestione delle terre rocce da scavo, il passaggio dal 161 al 120 ha cambiato un pochino le carte in tavole. Vi faccio un esempio pratico, in Arpa Liguria stiamo lavorando per il progetto di una grande opera che è la Gronda, se mai si farà, dopo quello che è successo, per esempio uno degli elementi chiave nella gestione delle terre e rocce da scavo prodotte negli scavi delle gallerie previste, si parla di gallerie in aree ad alta concentrazione di, probabile alta concentrazione di amianto, era previsto nel primo progetto che venissero in qualche modo riutilizzate nel riempimento dell'arco rovescio della galleria, previa inertizzazione con il cemento. Nel 161 era possibile, lo prevedeva, il 120 non lo prevede più esplicitamente. Ora, è chiaro che questo crea un elevatissimo problema, cioè un grande problema da gestire, perché lascia in qualche modo aperta una porta a cui corrispondono scenari decisamente diversi. Se l'estrazione di migliaia di tonnellate di materiale a concentrazione di amianto non sia in più in grado di poterle gestire in un certo modo, rimanendo all'interno del cantiere, quindi non stiamo parlando di esportazione rispetto al cantiere, non è più possibile utilizzarle attraverso questo meccanismo perché l'inertizzazione consente poi di sviluppare delle capacità meccaniche del materiale che sono funzionali all'arco rovescio, quindi non è soltanto ai fini dello smaltimento ma ai fini proprio della stabilità, diventa un problema di gestione estremamente elevato. Io credo, e sto per concludere, che il nostro sistema nazionale dell'Agenzia Ispra abbia la capacità e debba dire la sua rispetto a questi elementi. Come dicevo prima, in virtù di quello che la norma ci consente e ci dice di fare e quindi a oggi questo tipo di approccio, a mio parere, va approfondito e invito i colleghi, i direttori tecnici, i direttori generali e altri colleghi a riflettere sulla necessità di impostare un lavoro finalizzato a creare consenso all'interno del sistema agenziale rispetto a queste problematiche perché non c'è omogeneità di approccio, ci sono regioni molto avanti, ci sono agenzie un po' più avanti rispetto a queste problematiche di economia circolare, ce ne sono altre tra cui la mia estremamente indietro. Io invito caldamente a riflettere su questa necessità che diventerà sicuramente sempre più pesante. Questa era una slide che sostanzialmente riassumeva le azioni dell'SNPA rispetto all'economia circolare e quindi vi ringrazio, un saluto alla mia amata città che in questo momento è in condizioni estremamente critiche. Grazie. 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 Grazie.